e ci siamo ci siamo bentornati sul canale di pensierista italico che anche il vostro canale mi casa e stu casa e un saluto ai miei follower eccellenti soprattutto e gli eccellenti premium e a chi si trova qui per la prima volta a questo canale a vedere la recensione di questo smartphone già visto su tutti i vari recensori però anche io voglio dire la mia io che sono un recensore impostore non convenzionale non professionale ma artigianale per cui avrete un giudizio abbastanza veritiero anche se alcuni di questi recensori comunque sono comunque bravi non diciamo male snapdragon 8s gen 3 chipset alla grande oggi riproviamo quasi un top di gamma con 6.000 niz è una fotocamera sony ios e lui è anche un e ai e con 120 di ricarica e 5.500 per che un nuovo nuovo tipo di batteria di formato di batteria che hanno fatto quest'anno con un'altra metodologia proprio di hardware ok andiamo facciamo poche ciance vi dirò appunto il mio punto di vista andiamo a spacchettare insieme questo real me gt 6 e vediamo se è come decantano un po tutti se è quasi diciamo lo smartphone dell'anno a livello top sotto top il l'assassino che uccide tutti i top di gamma vediamo questo assassino se ha le foto segnaletiche fino in finora molte foto segnaletiche vedete e ai in bella vista vedete fast test growing make it real vediamo make it real vediamo la scatola o bella bella completa probabilmente già l'avete visto ma io ve lo faccio rivedere non un problema eccolo qua cavetto e silicone silicone morbido colore grigio spin scava sim andiamo a vedere le prime impressioni questo smartphone tanto idolatrato tanto idolatrato che ho dovuto anch'io prenderlo per dire la mia a vedere se davvero mi ci trovo bene o e finalmente quest'anno provo uno dei top di gamma e si vede si perché ragazzi è tutto vetro bicolore praticamente non so se lo notate vediamo un po solo notate lo faccio notare io da qua è un bicolore tutto vetro che sembrava meno bello da vederlo dal dallo schermo invece dal vivo è molto molto bello probabilmente scivolo setto perché questo vetro sembra quasi una pista di pattinaggio tipo un po stondato dietro molto pratico da edge davanti per cui come ho detto age la ma tagliato sang di netto edge sang c'è due di qua e due g di qua tutto però un edge arrotondato non appunto fastidioso nemmai spigoloso ecco non spigoloso carrerino della sim microfono ricarica tipo c non ha il jack per le cuffie come molti altoparlante di qua come sempre volume e bilanciere accensione qua niente e qua a tre fori da interpretare uno è un altoparlante uno un microfono l'altro non so che cosa sia forse è il boh andiamolo accendere forse quello per il telecomando vediamo un po che dice questo real me vediamo la prima accensione se è carico penso proprio di sì eccolo qua o schermo già vi posso dire mi sembra di ottima ottima qualità un nero davvero profondo un profondo nero un profondo nero con i miei guanti profondo rosso con un profondo nero con un profondo giallo di scritta e vediamo un po hello 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 mi sembra simile questo software già mi sembra sembra simile a qualcosa che ho già visto ultimamente poi vi dirò durante durante forse un altro real me collegati a una una rete mobile ok dispositivo android smartphone non posso che dalle non posso darvelo positivo però però questo smartphone a tanti però potrebbe essere mister però quale flagship killer quale flagship killer si sono riempiti la bocca tutti quanti di questo smartphone dandolo come il flagship killer lo smartphone killer che uccideva i top di gamma ma questo non uccide proprio nessuno questo uccide le zanzare tra l'altro perché riscalda troppo e quando una zanzara si avvicina si brucia tipo tipo quei prodotti che fanno ragazzi o veramente non mi dite poi a me real me perché c'è gente qui sopra che mi trovo bene con il mio real me ma che dici questo io real me l'ho usato per due anni come sapete le entry level ci ho fatto il recensore per cui non mi dite a me le anni l'entri level stiamo parlando è un smartphone che era il 99,9 per cento della popolazione mondiale non lo vedeva nemmeno non lo vedeva nemmeno io l'ho usato come mio smartphone da usare qui sopra figuriamoci un po se non tengo la real me intanto vi faccio vedere come gira ovviamente ha delle cose positive però il discorso che vi voglio fare io e ve l'ho dato comunque buono è buono però allora l'uscita al prezzo e attualmente l'ho pagato uno sproposito pagato a prezzo normale 699 non esiste 699 non esiste adesso si trova sui 500 una versione 512 comincia ad avere potrebbe cominciare ad avere un senso anche se a quella fascia di prezzo ci sono diversi diversi smartphone che vanno benissimo a partire da suo fratellino appunto il real me 12 pro plus che vi spiegherò poi perché lo preferisco a lui lo preferisco a lui cioè io preferisco a lui il real me 12 pro plus non a caso nell'ultima classifica il real me 12 pro plus l'ho messo primo insieme al motorola age 50 fusion per rapporto qualità prezzo ma anche qualità in generale come gira lo smartphone ecco un attimo che alzo pure un pochino i tempi se no qua mi va non facciamo nemmeno in tempo a lasciarlo un attimo che eccolo qua 30 secondi andiamo sui 10 minuti eccolo allora intanto vi vedete visualizzazione tonalità naturale adatta allo schermo e condizioni luce ambientale va bene questo se lo mettiamo che ci piace o andiamo a vedere ovviamente dicevo a molte cose cose a molti punti a molte vette alla grande ottime però a molti secondo me bassi quindi io vado a raccontare prima i bassi prima le cose che non vanno che si potrebbero migliorare poi vi racconto tutto il resto che ovviamente va per darvelo positivo comunque però ripeto ve lo do positivo intorno ai 500 euro non ai 700 euro 700 euro è uno smartphone che sta fuori di testa sta fuori di testa allora dove potrebbe migliorare partiamo dal fatto che è pesantuccio siamo sui 200 grammi ma essendo largo ve lo sentite proprio in mano non è uno di quegli smartphone ergonomici l'ergonomia non è il suo forte è pesantuccio seppur ben distribuito però uno smartphone di altri tempi non mi sembra un 2024 quest'anno hanno puntato molto sugli smartphone leggeri stanno puntando e io la chiamo sempre tecnologia cioè la leggerezza per me è tecnologia qua invece ritroviamo un po' quei pesi di quegli smartphone presenti ma non pesanti diciamo cioè presente come dico tante volte ma non presa non pesante nel senso che sì uno smartphone che c'è capito che voi sentite lo smartphone in mano però non è di quel peso proprio eccessivo che ti fa dire che palle che però secondo me non è un 2024 nel senso che quest'anno ci si aspetta un peso diverso dagli smartphone non questo peso qua non 200 e qualcosa questo sarà 200 non l'ho pesato ma io ormai c'ho la pesa alla mano e vi potrei anche riportare il peso che vi hanno riportato tutti ma io vi sto parlando di esperienza proprio giornaliera tenerlo andarci a spasso è grande e pesante quindi lui è grande e pesante per essere un 2024 ovviamente non è uno smartphone impossibile da tenere in mano però non ci si aspetta questo da quello che dovrebbe essere quello che uccide tutti i top di gamma l'assassino di tutti i top di gamma capisci già questo e vabbè oltre che lo scivoloso oltre che prende impronte oltre a questo aggiungiamo che gli hanno messo una pellicola che fa tipo una scaletta qua sul corto che quando appunto andiamo indietro vai a prendere dentro la pellicola e col tempo piano piano la spellicola rai la spellicola rai e per cui ti ritroverai a cambiarci la pellicola e comunque il senso di fastidio che d'acqua perché non hanno messo una pellicola lunga che arriva fino a sotto ti dà sempre quel senso che vai a toccare questa cosa qua che fa un po' di brivido la mano come ti vuoi dire un po' di fastidio la mano sciocchezze però vi faccio notare non è che lì ci sto trovando proprio i punti vabbè ma qua stiamo parlando di non uno smartphone da 2-300 euro stiamo parlando dello smartphone che esce 700 per cui queste queste cose qua non te le puoi permettere problemone grosso vi dicevo è vero siamo ai 35 gradi 36 gradi tutti gli smartphone 99 per cento vanno in calorie vanno in calore vanno in calore come i gatti come le gatti come le gatti vanno in calore questi smartphone con queste temperature purtroppo come vi dico sempre bisogna fare un qualcosa che è una tecnologia a essente che vai a premere e si raffredda lo smartphone però va bene chissà quando lo faranno comunque a prescindere da questo però lo smartphone dal quale vi riprendo che oppo oppo 12 fs ha lo stesso software di questo qua e ha lo stesso tipo di problema di riscaldamento ovvero che con la sim allora il wifi non riscalda tantissimo quando metti una sim comincia a riscaldare di più e quando li metti entrambi wifi in allora fa caldo ragazzi allora quando gli metti entrambi in hotspot perché lo uso molto in hotspot quindi lo vai a mettere un po sotto sottoflusso con questo caldo tendono a stare sempre al caldissimi cioè caldissimi si parla di 38 40 gradi costante 38 40 gradi costante solo perché gli aumenti un po gli tiri fuori hotspot allora questo sistema operativo qua c'è questo software che gli hanno messo qua di oppo che andiamo a vedere come si chiama che adesso l'ho anche dimenticato vediamo un po informazioni sul dispositivo realme ui si chiama ma è identico a questo di oppo gli hanno solo cambiato il nome è proprio identico identico la stessa cosa uguale 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 questo realme ui 5 in versione ufficiale 5 ricavato appunto da da oppo risulta essere davvero un software che fa riscaldare gli smartphone è il refresh rate di aggiornamento come vedete anche dallo scuola dallo scrolling guardate non è uno scrolling che vola questo c'è c'erano degli smartphone 120 hertz che tu li toccavi ma come già li toccavi partono già si parla di 34 anni fa adesso non puoi fare un refresh rate che devi andare in certe situazioni a spingere questa è una questione di software questo è un che è impossibile che questo processore che uno snapdragon è quasi il top di gamma ai 3 gigahertz vada così piano quindi una questione di process di software di questo oppo realme oneplus e compagnia bella che usano tutti lo stesso software questo software qua bocciato bocciato sotto tutti i punti di vista sia come grafica ma sia come funzionalità sia come sensore di luminosità non mi è piaciuto niente ecco se io dovessi tornare indietro e riprovare questo smartphone qua fare un investimento del genere non lo farei mai mai purtroppo mi sono fidato un po dei ma nemmeno solo per provarlo capisci perché che mi da questo smartphone non mi da nulla mi sono fidato dei recensori che hanno detto tutti che era il flagship killer che uccideva tutti i top di gamma questo non uccide nessuno se prendete un top di gamma in mano è un'altra cosa è un altro mondo questo non ci si assomiglia proprio e vi ripeto poi vi dimostrerò perché il frate il cugino che costa due 300 euro di meno 250 di meno meglio di lui ma allora detto questo punto vi dicevo processore quindi al riscaldamento che uno di quelle cose che va a voto purtroppo il processore in questa situazione qua con questo software qua va male va male perché fra riscaldamento e basse prestazioni che non gli ho trovato le grandissime prestazioni gli devo dare 7 quindi questo va ai voti processore riscaldamento 7 altre cose che vanno ai voti intanto vi faccio vedere anche info device così ci regoliamo un po allora vediamo appunto dispositivo realme gt 6 eccolo qua non ha le si ma bene questo è una nota negativa ve l'hanno già raccontata ci sta uno lo sa non ci mette giugno patch di sicurezza va bene più o meno ci siamo questa cpu questa l'architettura dal cpu ovvero un core da tre punti da 3 gigahertz quattro corda 280 quindi alla grande la grandissima e tre core da 2 gigahertz questo appunto 8 s gen 3 quindi s poco sotto gen 3 di poco però è sotto questo questo architettura su questo smartphone questo processore mi ha deluso tantissimo perché la serie s degli snapdragon usavano prima non riscaldare mai c'è riscaldare meno della serie normale quindi facevano la serie s era comunque prestante ma non scaldava ripeto siamo a 36 35 gradi scaldano tutti però poi vi faccio un discorso anzi ve lo faccio adesso quindi software bocciato secondo me molto bocciato e adesso rimpiangendo mi tocca rimpiangere poco e mi tocca rimpiangere l'hyper os pensa un po tu mi tocca rimpiangere l'hyper os cioè dei software quelli che conosciamo tutti sono al primo posto mettiamo quello di samsung motorola e pixel sicuramente poi ognuno di voi decide fra questi tre qual è quello che appunto ritieni mettere primo seconda e terza seconda dei gusti e come siete abituati io farei io metterei motorola samsung pixel secondo la mia classifica quarto posto ci metto ai per os purtroppo mi devo mi devo ricredere su ai per os che ai per os effettivamente vola e leggero e consuma pochissimo qua questo software qua invece consuma molto e pesante e scalda ovvero troppo scalda troppo il mio prima poco m6 pro che tra l'altro sto veramente definendo forse lo smartphone dell'anno rapporto qualità prezzo poco m6 pro ragazzi questo anche costa temperature non arriva ai 3 30 31 gradi riscaldava un pochino questi vanno bollono è diverso e lui c'è una camera di vapore lui ha una camera di vapore che non dovrebbe dovrebbe fare la differenza invece non fa nessuna differenza allora quindi dicevamo ci più l'abbiamo visto connettività e un wifi se va bene ci siamo ecco questo è il suo punto forte lo schermo è da 10 e lode 2780 per 1264 pixel a 560 dpi il valore più alto che ho riscontrato quest'anno su uno schermo infatti lo schermo è da 10 e lode uno dei suoi delle sue vette lui ha lo schermo migliore che ho provato quest'anno poi ne proverò altri forse quelli top di gamma saranno migliori da lui però finora lui ha lo schermo migliore 6 8 pollici vediamo appunto 120 e che tutto un programma sono 6 120 hz vanno ma con un 60 hz questa versione 512 giga di eventi di ram allora la fotocamera ecco un altro punto dolente allora fotocamera 50 megapixel 50 megapixel 8 megapixel grande angola grande angolare che fa pure da se non è rosso dicendo stupidaggi comunque allora la 50 megapixel fa delle foto che adesso andiamo subito avere aspetta che ho tolto aspetta col tolto che dobbiamo parlare a parte fotocamera ecco termico guardate le temperature dove sta la batteria voglio far vedere la batteria intanto adesso la temperatura poi andiamo a riprendere più in là quando siamo in movimento adesso ecco adesso a 37 gradi vedete la batteria che già in tanto per quello che ci stiamo facendo niente non è collegato adesso in hotspot non è normale si fa caldo ma tu hai 37 gradi di temperatura senza fare nulla vabbò va bene allora andiamo a avere un altro un'altra questione che vi stavo dicendo alle foto andiamo subito a parlare di foto così finiamo il ragionamento ho provato queste foto qua di questa fotocamera allora si presume che quando tu ti avvicina un top di gamma vuoi definirti un top di gamma devi avere comunque delle foto valide lui fa allora suo cugino ripeto i reali 12 pro plus fare foto meglio di lui vi ricordate questa foto qua visse stravista da deve avere il video guardate questa l'ho fatta in tutte le modalità questa foto qua sempre indefinite offuscata alla mia libreria con tutte le modalità anche 50 megapiveri questa ho scattata 50 vedete non si legge nulla non si legge con il 12 pro plus invece di sempre di real mini era l'unico che mi faceva riuscire a leggere questi libri qua leggevo tutto in maniera pulita nitida dallo stesso punto la stessa ora stesso ambiente stessa luce senza flash qua addirittura forse anche più illuminato addirittura niente da fare sia il punto di scatta sia il 50 megapixel quindi l'ultra res non c'è da fare la foto non la riesce a fare quello infatti l'altro e qua ascoltatemi un attimo bene l'altro aveva una fotocamera da che faceva lo zoom 3 3 per ottico che faceva tutta la differenza infatti sono stati usati i lenti più grandi e superiori la fuoriuscivano le lenti si vedevano di una qualità superiore qua invece è stato fatto un discorso di intelligenza artificiale la famosa e ai quindi si pensa di fare qua la fotografia molto a livello software con questa intelligenza artificiale che va a correggere gli errori però invece la funzionava bene qua no vedete se vedete gli obiettivi gli obiettivi che c'erano sul 12 pro plus sono superiore a lui e non può essere possibile questa è la differenza sostanziale non può essere possibile perché io mi sto comprando uno smartphone che esce 700 rispetto a uno che esce 500 non mi può mettere uno degli obiettivi peggiori rispetto a uno che esce 500 non so se ci siamo capiti mi sono un po' incartato oggi con il caldo ecco però ci siamo capiti cioè di là abbiamo gli obiettivi migliori qua ci hanno messo gli obiettivi più scadenti seppur si va a riprendere però ovviamente con il processore perché il processore ovviamente essendo quasi un top di gamma riesce a fare la differenza però non la fa nelle foto la differenza ecco quello che voglio dire la fa soltanto adesso andiamo a vedere nei video nei video perché poi vi faccio vedere questo una foto che ho fatto la perma niente foto da medio di gamma foto da un buon medio di gamma ma il ripeto suo cugino fare foto meglio quindi se cercano smartphone per le foto con prestazioni buone che riscalda meno da lui molto meno da lui che comunque è un 7 s gen 2 quindi è inferiore un 2.4 giga ma va meglio da questo smartphone va tutto meglio da questo smartphone l'audio uguale va tutto meglio a questo smart non a caso quello smartphone ripeto l'ho messo prima in classifica nella mia classifica provvisoria trimestrale insieme al motorola edge fusion sia motorola edge fusion sia quello la real mid 12 pro passano meglio di lui poi ognuno possiamo opinare su tutto ma io vedo i fatti i ragazzi ecco dove invece fa la differenza il processore è ovviamente è qua vedete aspetta questo è un video che ho fatto stamattina riesce a registrare in 4k con questa stabilizzazione eccezionale anche una modalità ultra stabile che poi vi faccio vedere anche se qua vedete ha perso un attimo il fuoco però qua stiamo registrando ai 4k a 60 fps stabilizzato lo fanno in pochi così stabilizzato cioè ci possiamo camminare fare riprese alla grandissima volevo ieri sera andare di notte in una festa a fare tutto una ripresa a fare una live ma questo se andavo in live per un'ora con questo riscaldamento qua mi andava in thermal trotting mi bollivano potevo tenere più nelle mani non l'ho potuto fare pensa tu cioè non ho potuto farlo in questione di riscaldamento però ripeto qua si riprende con il fatto del 4k agli 60 fps perché è un processo che appunto elabora bene le immagini ti fa andare benissimo questa situazione qua superiore a suo cugino in questo caso cioè in questo caso i video sono superiori ovviamente al realme 12 pro plus però il realme 12 pro plus riusci a fare un po di tutto con la fotocamera secondo me molto superiore a questa molto superiore a questa fotocamera frontale invece da 9 fotocamera frontale ottima da 9 fa ottimi video ottime foto niente non ha bisogno appunto del della appunto del della distanza quindi a distanza ravvicinata con appunto l'elaborazione date che gli dà il processore riesce a fare delle ottime sia video sia foto e video appunto dicevo da 10 quindi lui fa dei dei video con la camera posteriore da 10 e con la camera interiore da 9 però la fotocamera a livello generale a livello di voti gli do alla fotocamera posteriore gli do 8 8 e questa anteriore gli do 9 quindi questo va a voto 8 e 9 allo schermo appunto gli do 10 e l'odo perché lo schermo il migliore che ho visto finora l'audio è da 9 9 e mezzo facciamo 9 9 e mezzo non è a livelli di alcuni di motorola dico perché hanno un ottimo audio si sente benissimo in capsula però ecco non è a livello manco di questo da quale vi riprendo che l'audio superiore c'è l'oppo questo qui da quale vi riprendo oppo 12 fs gli è superiore a lui come audio lui ha un audio ricercato però non con la potenza che mi aspettavo da un real me quindi processore abbiamo parlato foto pure audio pure ripeto un telefono che se non ci fosse secondo me non si sentiva la mancanza ecco perché non ha un grosso punto a favore a parte appunto questo se vi serve appunto un telefono che abbia un ottimo schermo un ottimo audio e abbia il gaming secondo me d'estate scordatelo perché questo questo smartphone qua facendoci gaming vai riscaldamento il fatto che ha la camera di vapore riscalda comunque poi giocarci solo l'inverno ovviamente questo smartphone che se compri da settembre in poi cambia radicalmente perché fra un mese le temperature si abbassano non ha più problemi di temperatura ti inizia a dare quel qualcosa in più ti inizia da quel boost di energia e di qualità che ti farà sicuramente contento e ti farà sicuramente piacere però ti farà piacere ma resta il fatto che comunque è grossetto ingombrante scivoloso refresh rate non è non è fantastico e le foto appunto da camera posteriore sono quelle non cambieranno con il rinfrescamento dell'aria le foto sono queste saranno sempre ai elaborate temporaneo fare qualcosa a livello di elaborazione qualche aggiornamento però vi ripeto questi qua i sensori sono questi non sono grossi sensori da mettere a un telefono di questa categoria qua che dovrebbe essere lui per cui detto tutto questo fatto con tutto questo discorso un po farragino setto però non so se mi avete capito che cosa vi voglio dire come si fa a consigliare uno smartphone che parte appunto ai 700 euro lo troviamo ai 500 ecco allora questo smartphone da settembre se non proprio lo volete prendere che siete innamorati a 500 euro non di più vi ritrovate comunque lo smartphone sì che ha la batteria e da 9 la batteria 9 ricarica da 10 perché ricarica velocemente a 120 watt però dovete comprare a parte comunque il caricatore 120 non è in dotazione ricarica con un attimo manco mezz'ora 20 minuti e la batteria dura sicuramente da come si abbassano le temperature durerà tantissimo per cui la batteria diciamo da facciamo 9 e mezzo ecco 9 e mezzo la batteria e 10 da ricarica questo un altro che va a voto 9 e mezzo la batteria 10 ricarica schermo da 10 lode fotocamera posteriore da 8 anteriore da 9 però processore e tempo temperatura non gli posso dare che un 7 e la maneggevolezza e la bellezza non gli posso dare che considerando il peso e considerando tutto non gli posso dare che un 7 purtroppo si perde in questi due voti quindi sono due voti altamente negativi per la fascia di prezzo che occupa sono due e bassi e però a queste 34 rette che se vi interessa uno smartphone che ha appunto uno schermo eccezionale un audio ottimo fare delle ottime foto della fotocamera sefci e degli ottimi video ai 4k ai 30 fps da qua poi se andiamo in stabilizzazione adesso la faccio vedere così ci capiamo meglio vedete allora a questa modalità qui vedete questa qui questa è l'ultra stabilizzazione che mantiene 4k ai 60 fps questo non lo fa quasi nessuno smartphone cioè già è molto stabile senza poi anche un'ultra stabilizzazione che vi permette di fare video veramente super veramente su perché 4k ai 60 fps stabilizzato ragazzi bisogna dare a questo smartphone anche il suo punto forte che però è questo video super stabilizzati ai 4k a 60 fps questo è il suo punto forte lo schermo da 10 lote questo è un altro punto forte da un altra vetta la batteria potrebbe essere un altra vetta è da definire adesso che calano un po le temperature diciamo che un altra vetta quindi a tre punti tre grosse vette però non cerchia totalmente perché appunto pesa troppo riscalda troppo il processore è un po farraggito sono setto e soprattutto il suo punto più negativo e software di questo oppo oneplus eccetera che fa tutto lo stesso marchio il software davvero sbagliato e devo e mi devo devo mettere appunto al secondo posto dopo i tre che vi ho detto ci metto ai però è se lui lo metto ma forse anche dopo quello di vivo forse anche dopo quello di quello di vivo è meglio da questo software qua quindi lo metto a quarto quinto posto se devo fare una classifica software questo qua lo metto al quarto quinto posto non non prima e questo appunto fa oppo fa oneplus fa real me fa tutta la stessa gang e tutto la stessa gang hanno fatto un software quest'anno davvero brutto e sbagliato che più rallenta più che accelerare riscalda più che snellire le situazioni e in più ripeto fisicamente pesantuccio non un 2024 questi sono i suoi due punti scadenti però io capisco che chi se lo compra arriva a casa soprattutto sono comprate a settembre questo smartphone dice wow questo mi funziona questo mi funziona lo pago 500 euro mi trovo benissimo real me l'uccisore dell'assassino dei top di gamma però invece no perché un top di gamma ragazzi pesa niente cioè il peso deve essere la differenza e ti da tutto calibrato tutto in modo eccezionale cioè non ci possono stare queste queste debacle queste debacle questi questi cali queste questi abissi non ci possono stare questi abissi non esiste cioè tu devi provare prima di farlo uscire non puoi fare una cosa del genere non puoi dire che fai una camera di vapore a camera di vapore non serve assolutamente a niente non puoi mettere dei dei sensori più scadenti dei di quelli che metti sul tuo smartphone appunto più piccolo e quello più piccolo va meglio cioè non lo puoi farci se lo fai perché ti è sfuggito perché non sei attento perché lo fai con molta sufficienza non stai pensando che questo deve essere migliore da quello non hai nemmeno visto le foto le viste solo su capito in prova ma non le viste nella vita reale poi le foto come come escono invece dovevi vedere prima di tirare fuori il smartphone penso io poi non so se avete capito il discorso ovviamente ripeto è uno smartphone che ho messo buono che ho dato buono non vi ho fatto il solito video vi faccio solo vedere un attimo instagram come gira ma sarà per non riscaldarmi le mani perché appunto andiamo a vedere il ma ripeto vi faccio sentire un po di un po di audio l'audio è ottimo come abbiamo già detto e lo schermo ovviamente dice che a 6.000 inizi all'aperto si vede si vede benissimo lo schermo che abbiamo già dato 10 e lo dello schermo da 10 e lo schermo di riferimento finora per tutti gli smartphone provati e guardate ecco la velocità appunto su instagram poi andiamo per il proprio riscaldamento quando va adesso in 5 g a pallettoni dai dai adesso al 5 g a pallettoni niente di non visto prima parte ripeto lo schermo che effettivamente tirato il plus in più vabbò questo lo chiudiamo andiamo a vedere appunto youtube e vi faccio vedere appunto il nostro video riferimento 12k così non mi amorbo più di tanto era solo un discorso più che altro che volevo fare su questo smartphone perché poi sì forse ci farò una live dalla fotocamera frontale in settimana così vediamo come registra la fotocamera frontale come sarà dalla live però mi aspettavo molto cioè fai un investimento del genere ti aspetti molto poi vi faccio vedere alla fine vi faccio vedere sì qualità dello schermo niente da dire non posso dire niente altro allo schermo che è un riferimento vero sia di bellezza di colori sia di densità densità di pixel si vede che è molto carico e molto pieno ecco adesso mi ha anche avuto anche avuto un problema diretto la parte telefonica ripeto alla grande sente benissimo prende benissimo viva voce benissimo anche lui anche l'oppo abbiamo detto la stessa cosa oppo forse anche leggermente migliore come audio l'oppo dal quale riprendo per cui questo telefono da 350 questo al quale riprende questo è il doppio esattamente non doveva andare peggio da lui seppur sembrano due marchi diversi ma è lo stesso e quindi vi ho fatto vedere qua andiamo a preverete adesso io lo sento di scaldamento e vi faccio vedere andiamo a chiudo appunto con info device e vi faccio rivedere appunto a che condizioni è la batteria 40 gradi eccolo qua vedete 40 gradi che abbiamo fatto abbiamo girato 240 gradi di temperatura 37 prima aumentato di 3 gradi e ci siamo quanto 5 minuti a girare 5 minuti a girare se giriamo con la fotocamera facciamo una ripresa in 4k di una mezz'oretta siamo spacciati la faremo forse live vediamo che fa solo smartphone se prenderà fuoco vedrete uno smartphone prendere fuoco per cui realmente non credo siano questioni processore che ha fatto così scadente lo snapdragon penso che vada male su questo software questo processore qua va male con questo software quindi questo è quello che vi volevo dire il mio punto di vista ciao ragazzi ci vediamo la prossima